Gianmi che pensi? Ho paura di volare! Adesso l'aerio vedi che sta andando sempre più veloce sempre più veloce Gianmi com'è? Bello Adesso guarda fuori Guarda fuori Deve arrivare a 300 km per alzarsi da terra Aspetta Kika Eccolo che si alza Gianmi guarda fuori Guarda fuori Eh no quello è il bello Che bello Eccolo 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 Dai un ma Gianmi Dai un ma Gianmi Dai un ma Gianmi Mmmmm Ma Gianmi E' bene a Gianmi E' bene a Gianmi E' bene a Gianmi